C'è una notizia ufficiale riguarda l'inizio del campionato di Lega Pro che avrà inizio, comincerà domenica 4 settembre a stabilire lo stesso presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, sappiamo tutti dei ricorsi di Teramo e Campobasso il Consiglio di Stato si pronuncerà il 25 agosto. Per quanto riguarda invece il primo turno di Coppa Italia è stato rinviato a data da destinarsi successiva comunque al via del campionato. Il Pescara sta cercando di organizzare un paio di amichevoli Anna, il 21 e il 28 agosto, domenica 21 e domenica 28 agosto contro Re Canatese e Rimini che sono due squadre di pari categoria, entrambe parteciperanno al prossimo campionato di Serie C naturalmente sono amichevoli da confermare. Veniamo al calciomercato perché ci sono decisi passi, si registrano decisi passi avanti per Colai, classe 1999 e un italo-albanese. Ne abbiamo parlato con duvizia di particolari anche nel corso speciale mercato di ieri sera, tra l'altro è stato ospite via Zoom il presidente Sebastiani e di proprietà dell'Alessana. Lo scorso anno 22 presenze e un gol in Serie B, nato calcisticamente nel Sassuolo, ex proprietario a 3A diciamo che è un giocatore che ha avuto anche esperienza, ha fatto esperienza in Serie C. Ebbene, insomma, la trattativa può essere definita con questo ragazzo anche nel tardo pomeriggio di oggi. Dunque, attesi sviluppi per Colai che è il trequartista che servirebbe, usiamo sempre il condizionale e quanto mai di rigore, al tecnico Alberto Colombo. L'altro ruolo che in questo momento deve essere coperto è quello del play, il play puro, che dovrebbe essere anche in questo caso, usiamo il condizionale Andrea Ghion, classe 2000, che sta per rientrare dal prestito di Perugia al Sassuolo. Insomma, ci sono conferme da più parti, si attende soltanto il crisma dell'ufficialità. Parliamo anche di Aloy, telenovela infinita anche questa mattina. Nulla di fatto, la trattativa, lo possiamo dire, è definitivamente saltata, tant'è che Delicarri si sta concentrando su un altro obiettivo di cui abbiamo parlato in questi giorni, ovvero Yoshua Tenkorang, classe 2000, si è messo in evidenza nelle ultime tre stagioni nel campo basso di Mirko Cudini e di proprietà della Cremonese. Il problema è che su questo ragazzo ci sono almeno un paio di club di Serie B e bisognerà attenere un paio di giorni. Altro centrocampista attenzionato è Bro, Bro che ha esperienza anche in Serie B, nel Padova, nel Cosenza, ha giocato nel sud di Tirolo lo scorso anno, ha vinto il campionato di Serie C e di proprietà del Palermo, però deciderà il neotecnico dei siciliani, Eugenio Corini, che si è appena insediato. Quindi anche in questo caso bisognerà aspettare qualche altro giorno. È quasi fatta per Veroli al Cagliari, altro gioellino della cantera biancazzurra classe 2003. Bene, la trattativa è stata già impostata nei dettagli perché vi possiamo fornire anche qualche particolare. Andrà in prestito oneroso Davide Veroli al Cagliari con una serie di bonus più un diritto di riscatto che si tramuterebbe in obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A del Cagliari che quest'anno è stato affidato a Fabio Liverani e comunque Veroli partirebbe subito alla volta di Cagliari. Non succederà come Delebonache che è stato ceduto a titolo definitivo alla Sampdoria ma resterà per un altro anno in prestito al Pescara. Infine Brosco, il ritorno è plausibile, sarebbe plausibile, anche in questo caso siamo il condizionale per non sbagliare Anna, ma non è scontato solo nel caso in cui dovesse partire in grosso perché questo? Perché Delicarri ha come obiettivo ancora Coccolo, Luca Coccolo, classe 1998, difensore mancino di proprietà della Juventus.